Questo video parla di Bela Bartók. Spiego le cose più importanti della sua vita e delle sue opere. Bela Bartók nacque nel 1881 in Ungheria. Dimostrò un talento musicale precoce e studiò al Conservatorio di Budapest, dove apprese il pianoforte e la composizione. Uno degli aspetti più importanti della carriera di Bartók fu la sua ricerca sulla musica popolare. Raccolse migliaia di canzoni popolari e integrò elementi di musica popolare nelle sue composizioni. La musica di Bartók è conosciuta per il suo ritmo e per l'uso di melodie popolari. Ha mescolato influenze della musica classica con elementi della tradizione musicale ungherese e di altre tradizioni musicali dell'Europa orientale. Uno dei suoi lavori più noti è, Microcosmos, una raccolta di pezzi per pianoforte che ha obiettivi sia pedagogici che artistici. Sono organizzati in ordine crescente di difficoltà e coprono una vasta gamma di stili e tecniche. Bartók ha anche scritto opere orchestrali e musica da camera, tra cui concerti per pianoforte, violino e orchestra. I suoi quartetti d'archi sono considerati particolarmente innovativi e influenti. Bartók aveva contatti con altri importanti compositori del suo tempo, tra cui Zoltan Kodaly e Igor Stravinsky. Era considerato da molti come uno dei principali compositori moderni. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Bartók emigrò negli Stati Uniti. Durante questo periodo ebbe difficoltà a collegarsi con la vita musicale, ma continuò a comporre. Bella Bartók morì nel 1945 negli Stati Uniti. La sua influenza come compositore e ricercatore musicale è ancora sentita oggi, e le sue opere sono eseguite in tutto il mondo. Bartók è una delle figure chiave della musica del XX secolo. Con la sua fusione di musica popolare e tecniche compositive moderne, ha creato un'espressione musicale unica e profonda. Grazie a tutti. Grazie a tutti.